Buongiorno cantanti! Allora, oggi ci eserciteremo con il brrrr. Siamo pronti? Non è semplice per tutti eseguire questo esercizio, ma tutti i cantanti lo devono fare e tutti ci si scontrano. Vogliamo provare? Allora, per poter esercitarsi impariamo a farlo. Come possiamo provare se non ci viene? Tutte queste cose ovviamente sono sbagliate. Cosa possiamo pensare? Pensiamo al motorino? Questo potrebbe aiutare, ma non può essere un brrrr. Perché? Perché non dobbiamo buttare l'aria fuori, ma dobbiamo tenerla, dobbiamo conservare l'aria per farla suonare. Allora, iniziamo a gonfiare il torace nel modo corretto, pensando di lasciare che l'aria entri. Faccia morbida, bocca morbida e con un semplice movimento muscolare che parte dalla schiena interessa a tutti i muscoli intercostali, dilatiamo il torace come un uomo che vuole far vedere i muscoli. D'accordo? Ah, pardon, bocca aperta. Tutto fuori. Lasciando che l'aria entri, il torace si apre e la natura del nostro corpo ci fa semplicemente riempire i polmoni. Niente di più. E non dobbiamo riempirli da sentirci dei palloni gonfiati. Dobbiamo riempirli per quanto ci basta. E basta e avanza. Nel momento in cui abbiamo respirato correttamente, dentro l'aria correttamente, dobbiamo far partire i muscoli addominali, dorsali, laterali e il nostro amico pavimento pellico, lasciando in pace gli addominali davanti. Lasciare che la pancia faccia quello che vuole. 99 su 100 con più fuori, ma non per tutti è così. Semplicemente rilasciata. Allora, bocca morbida, faccia bella rilassata, gonfiare semplicemente, aprire semplicemente il muscolo intercostale. E adesso si parte con il nostro amico B. Non dobbiamo concentrarci tanto su quello che devono fare le labbra. Pensiamo al suono. Bene, proviamo a farne qualcuno. D'accordo? Tu Ancora Ricordatevi, quando dovete emettere un suono, dovete sentire che i muscoli laterali, qua, i dorsali, i muscoli addominali laterali, si gonfiano andando leggermente in fuori. Se questo esercizio non vi viene, dovete semplicemente fare un colpetto di tosse. Così. Viene abbastanza naturale. Un'altra cosa che viene abbastanza naturale è immaginare di riempire d'aria un palloncino. Facciamo finta che questa mano sia il palloncino. E pensiamo di fare questo. Quindi E proviamo a fare così. Sentiamo che la muscolatura addominale laterale si apre. Aprendosi e aprendosi anche il torace, noi stiamo facilitando il diaframma. Il diaframma deve avere tanto spazio per potersi allargare, scendere. Se noi lo costringiamo, cosa fa il nostro amico diaframma, che sta in questa posizione? Rimane lì tutto bloccato. E il diaframma deve scendere, come se fosse una frittata schiacciata. Non una cupola. Una frittata schiacciata. Ma noi come possiamo farlo questo? Appunto lasciando che il torace sia bello aperto, spingendo verso l'esterno con i muscoli intercostali, con un bel lavoro muscolare della schiena e delle parti laterali del torace. Quindi, ricominciamo. Messo morbido. Se ci sentiamo un po' di tensione nella faccia, dobbiamo fare ginnastica. Un'altra cosa che deve essere esercitata bene per rilasciare tutti i muscoli, che cos'è? La lingua. La nostra cara amica lingua. Qual è la posizione di riposo della lingua? La punta della lingua deve essere appoggiata ai denti di sopra. Adesso facciamo un sospiro di sollievo. Chiudiamo la bocca e appoggiamo la lingua morbida. Sentiremo che la punta della lingua si appoggia naturalmente sui denti di sopra. e continuiamo ad aprire e chiudere il torace in modo più elastico possibile. Se sentiamo questo, vuol dire che ci sono tensioni. Allora, lasciamo andare fuori l'aria, facciamo un sospiro di sollievo. Se non è sufficiente, ne facciamo un altro. e aspettiamo che i nostri muscoli intercostali riescano a lavorare senza tensione. Bene, con una respirazione rilassata e il lavoro adeguato dei muscoli addominali, dorsali e laterali, non riusciamo a fare facilmente il nostro Cosa ho fatto? Ho un po' bagnato le labbra. Sono troppo secche, magari non riusciamo. Allora, ancora il nostro esercizio. Ancora. Sentirete che il suono parte dai piccoli colpetti che danno questi muscoli della schiena. Molto bene. Allora, questi devono lavorare. Schiena, fianchi. Adesso ne facciamo un altro esercizio. Attenzione. Proviamo a tenerlo, il suono. Adesso. Basta. Adesso, per essere più precisi, io non eseguirò più l'esercizio, ma conterò e basta. La brrrr che eseguitete lì dovrà essere lunga quanto il tempo che io conto. Quindi, adesso conterò fino a... Quattro. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Stop. Pronti? Via. Uno. Uno. Due. Due. Quattro. Cinque. Stop. E aggiungo sempre uno. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Stop. E... Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E... A questo punto arriviamo a dieci. Facciamo un bel saltino. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Step successivo. Quindici. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. E quindici. A questo punto sta a voi. Proviamo a fare un grrrr che duri finché ce la fate. L'obiettivo non è quello di fare un grrrr che duri quattro minuti. L'obiettivo è quello di riuscire a spingere verso l'esterno con il torace in modo da non fare grrrr perché questo vuol dire che ci stiamo sgonfiando, il nostro diaframma sale e non riusciamo più a tenere un suono, giusto? Noi dobbiamo cantare spingendo sempre verso l'esterno. È un lavoro muscolare che si fa a questo livello per non affaticare questa parte del corpo. Quindi noi, adesso per fare il grrrr che dura più possibile, dobbiamo pensare bene che il torace continui a spingere verso l'esterno. A un certo punto ci renderemo conto che non ce la facciamo più. Proviamo a spingere ancora. Proviamo a spingere ancora per spostare il nostro punto di crisi. A quel punto, quando ci renderemo conto che davvero non si può più andare avanti, smetteremo senza fare brrrr queste cose qua. Non dobbiamo arrivare al punto di cantare senza fiato. Non ha senso. Quindi aumentiamo la nostra forza fisica per riuscire a sostenere un suono, mantenerlo sul fiato il più possibile senza sforzo per la gola. Quindi questo lo potete fare spegnendo il video e provando a fare un brrrr quanto lungo, più lungo che potete. L'esercizio successivo invece è l'otto. Io amo molto far fare l'otto perché è un modo per esplorare la propria estensione senza stress. Proviamo a fare, a disegnare un otto nell'aria con il nostro brrrr. Potete decidere se partire dalle note acute o dalle note gravi, dipende, o anche in centro. Brrrr. 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 Questo è un buonissimo esercizio per giocare con le curve di suono. Brrrr. 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 perché comunque questo è un esercizio di riscaldamento, non bisogna andare a spingere o a sforzare. Allora, attenzione perché quando si inizia a fare conviene smettere, sempre per il motivo di prima. Se ci si ferma, non è successo niente, può succedere subito. Non lasciate che questo vi mandi in frustrazione. Cosa dovete fare? Sciogliere i muscoli della faccia. Massaggiare la faccia. Non vergognatevi mai della vostra splendida faccia. D'accordo? Come dicevamo, posizione della lingua di riposo non basta? Bene, fuori la lingua, dentro la lingua. La lingua è attaccata qui, se è rigida, se è contratta, ci blocca la laringe, deve essere morbida la lingua, quindi fuori. respiriamo. Fuori tutte le tensioni, ancora. Lingua è in posizione di riposo e respiriamo col naso, mai rimanere in apnea, non ci serve niente. respiriamo sempre, aprendo bene il torace. Ancora con l'otto. Facciamo fatica a fare l'otto sulle note acute? Bene! Pensiamo a un suono acuto, come fosse una bella linea che va giù. Allora a questo punto cosa possiamo fare? Immaginiamoci di disegnare delle lettere dell'alfabeto in stampatello, possibilmente. Quindi magari una I, una A, una B, una E, una O, e così via. Una Z. Chiedo scusa, non l'ho fatto in modo speculare, non ci riuscirei mai. Comunque, guardatevi e pensate di fare questo disegnino nell'aria. Immaginate, e tutte le volte, questo è un trucchetto, che dovete cantare le note nel registro di testa, pensate di cantarle basse. Postura dall'alto verso il basso. Quando invece pensate di fare le note basse, pensate in alto. Quindi il contrario. Questo è importantissimo, visualizzare la melodia al contrario. Pensare che le note acute stiano in basso e che le note basse stiano in alto. Buon esercizio, provate, provate, provate e buon canto a tutti. Ciao!